Sono passati probabilmente meno di 10 giorni da quando Adobe ha lanciato la nuova versione della app beta di Adobe Photoshop con all'interno il riempimento generativo, questo nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa quindi che va a generare degli elementi, delle grafiche, delle immagini a partire dagli prompt testuali, degli input testuali e questo nuovo strumento ha fatto veramente parlare tantissimo. Ho fatto anche un video su questo canale YouTube in cui sono andato a parlare un po' di quelli che potrebbero essere gli impatti di questi nuovi strumenti, di queste nuove funzionalità di intelligenza artificiale all'interno del mondo del graphic design e all'interno del nostro modo di lavorare come designer. Ed è notizia veramente di pochi giorni fa che Adobe ha inserito anche in Illustrator, quindi il software di grafica vettoriale Illustrator la primissima funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Prima di partire e andare nel dettaglio e vedere di che si tratta e poi ragionare un pochino sugli impatti che questa cosa può avere sul nostro lavoro, fammi un attimo fare una brevissima presentazione. Sono Lorenzo Miglietta e sono il fondatore di Grafigata.com, la piattaforma online dove i designer possono imparare la grafica, migliorare come designer e sfrigionare la propria creatività. Su Grafigata noi sono anni, anni che facciamo formazione avanzata per far sì che i designer riescano ad ottenere tutte le competenze necessarie per poter svolgere al meglio il loro lavoro. La nostra missione è creare una nuova generazione di designer. Proprio verso questo obiettivo vanno video come questi, in cui andiamo a parlare delle novità nel mondo della grafica, di cose che stanno un po' rivoluzionando il graphic design. Ovviamente parlo dell'intelligenza artificiale. Il nuovo strumento di intelligenza artificiale in Adobe Illustrator si chiama Generative Reconor, che in italiano probabilmente verrà chiamato ricolora generativo, ricolorazione generativa, qualcosa del genere. E questo strumento, a differenza del riempimento generativo di Photoshop, che è stato inserito solamente nella versione beta dell'app, quella che è un po' più instabile, che si sta ancora sviluppando, in questo caso invece questo Generative Recolor è stato inserito nella versione definitiva di Illustrator, quindi è stato già inserito come uno strumento utilizzabile in qualunque momento. L'unico problema è che allo stato attuale, mentre sto registrando questo video, è disponibile solamente per la versione in inglese di Illustrator. Probabilmente nel giro di pochi giorni o al massimo poche settimane questa funzionalità verrà introdotta anche in tutte le altre versioni di Illustrator, ma sicuramente se la vuoi testare, se la vuoi provare, quello che devi fare è andare nel tuo pannello Creative Cloud, se sei abbonato ovviamente ad Adobe Creative Cloud, cambiare le tue preferenze di lingua dell'installazione dei nuovi software. Una volta fatto ciò, devi poi disinstallare Illustrator e reinstallarlo nella nuova lingua, cioè in inglese. So che è una menata, però attualmente è l'unico modo per poterlo testare all'interno di Illustrator. Altrimenti questa nuova funzionalità è disponibile anche online, così come tutte le altre funzionalità di intelligenza artificiale che per ora Adobe sta sviluppando e che in realtà sta anche addestrando. Sono gratuite anche perché Adobe sta raccogliendo un sacco di dati per poter migliorare la stessa intelligenza artificiale che va a generare le cose. Ma che cosa fa questo Generative Recolor? Sostanzialmente prende delle grafiche già esistenti, che possono essere dei loghi, delle illustrazioni, funziona meglio con le illustrazioni, magari anche con tanti colori all'interno, ti va a rigenerare o a generare delle palette di colori con cui colorare quelle grafiche, quegli elementi grafici. Io ho fatto un po' di pre-op ovviamente. In questo caso, ad esempio, ho preso una grafica, un'illustrazione scaricata da Adobe Stock, quindi una immagine stock invettoriale di un castello. L'ho selezionata, poi sono andato su Edit, Edit Colors, e poi ho selezionato Generative Recolor. A questo punto si apre una finestra all'interno dei quali tu puoi scegliere diverse opzioni. Puoi innanzitutto applicare sulla tua grafica, sulla tua illustrazione, sulla tua immagine, diverse palette di colori già precomposte. Ti andrà a cambiare tutti i colori appunto di questa illustrazione. Altrimenti puoi dare degli input, puoi dare un prompt, puoi scrivere ad esempio che vuoi una palette di colore in stile Vaporwave, o buone in stile anni 80, o ancora in stile marino magari, colori del mare o cose di questo tipo. Tu puoi scrivere quello che vuoi. Il motore di intelligenza artificiale di Adobe andrà a ricercare quali sono i colori inerenti al feedback, all'input, al prompt che hai dato, e ti andrà a generare una nuova palette di colori e ad applicarla direttamente sul disegno, sull'illustrazione che tu stavi modificando. Questo è sostanzialmente quello che fa questo nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa di Illustrator. Questo, a differenza proprio del riempimento generativo di Photoshop, funziona da Dio. Perché il riempimento generativo di Photoshop oggettivamente ha ancora parecchie carenze. Se gli chiedi cose già un po' più complesse, che non siano delle piccole modifiche all'interno dell'immagine, e gli chiedi di generare cose completamente da zero e di inserirle in un contesto magari in cui c'entrano poco, fa ancora veramente, veramente tanta, tanta, tanta fatica. Questo strumento nuovo di Illustrator invece funziona veramente a livello perfetto. Veramente è un ottimo strumento e sicuramente rende un po' più facili alcune cose, magari la sostituzione dei colori all'interno dell'illustrator. L'intelligenza artificiale generativa è molto buona, nel senso che va a creare cose, va a modificare cose in un modo che scende lei, lo decide lei cosa fare, come farlo. E questo è un pochino il grande pregio, ovviamente, perché ti sostituisce tante fasi noiose, tante menate, ma allo stesso tempo magari non fa esattamente quello che vuoi fare. Il vantaggio in questo caso è che tu ovviamente puoi far cambiare l'intera palette, ma poi puoi comunque utilizzare tutti gli altri strumenti di Illustrator per andare a ritoccare, modificare o sostituire i colori. Quindi io lo trovo uno strumento molto, molto utile, che a prescindere che sia di intelligenza artificiale generativa o che sia uno strumento normale, è veramente un ottimo, un ottimo strumento da utilizzare all'interno di un software. Ma adesso fermiamoci un attimino, voglio prendermi due o tre minuti in cui voglio chiudere questo video con alcune riflessioni su che impatto stanno avendo questi nuovi strumenti che ormai hanno una cadenza veramente molto, molto veloce di sviluppo e di spiego sui nostri computer. Innanzitutto la prima riflessione che mi viene da fare è che questi sono solamente i primissimi passi a cui stiamo assistendo. Arriveranno molte più cose, arriveranno cose veramente molto più complesse e che genereranno cose molto più complesse. Questo è un dato di fatto e la stessa Adobe ci fa vedere sui suoi siti che ci sta già lavorando, ci sta già smanettando per riuscire a lanciare, secondo me, nel giro di massimo qualche mese delle funzionalità molto, molto, molto sviluppate ed avanzate anche proprio nella generazione di grafiche vettoriali. Ma significa anche, secondo me, che la temuta intelligenza artificiale che schiaccia un pulsante e ti genera il volantino perfetto con tutte le grafiche, i testi, tutto ben impaginato, già scritto, già tutto organizzato, fatto e pronto per essere stampato, secondo me è molto, ma molto, ma molto, ma molto lontana, molto più lontana di quello che pensano molti grandi guru dell'intelligenza artificiale che stanno nascendo come funghi in questo momento, sempre che arrivi mai. Perché la mia teoria, su cui mi voglio un attimo sbilanciare e che poi magari mi farà fare una figuraccia col tempo, col passare degli anni, è che in realtà questi strumenti di intelligenza artificiale verranno limitati principalmente dalle grandi aziende dei software americani. Adobe è praticamente un monopolio, non avrebbe alcun vantaggio a creare uno strumento che in automatico ti crea tutto, a parte che la reputo è una cosa praticamente impossibile, ma lasciamo perdere. Non avrebbe alcun interesse, perché ovviamente quello con cui guadagnano sono i software che servono per creare queste cose qua. Quindi quello che farà e quello che proverà a cercare di fare sarà introdurre piano piano sempre più piccoli strumenti, piccole funzionalità che andranno a semplificare il lavoro del designer e a semplificare magari gli stessi strumenti dei software Adobe. Quindi andrà a inserire uno strumento che genererà delle botte, andrà a inserire dei migliori strumenti di ricalco immagine, di vettorializzazione di uno schizzo o cose di questo tipo. Non lo so cosa sta bollendo in pentola, ma mi immagino che saranno tanti piccoli strumenti. E infatti l'ultima riflessione che voglio fare è proprio quella che in realtà uno in questo momento storico può pensare che non ne vale la pena, non vale davvero la pena sbattersi ad imparare questi software che sono magari Photoshop, Illustrator e InDesign, i tre software più utilizzati all'interno del graphic design. Non ne vale la pena di impararli, non serve a niente, tanto nel giro di qualche anno comunque si schiaccerà un pulsante e si farà tutto in automatico. Tra buo, tre, quattro, cinque anni saranno tutti graphic designer e non servirà più assolutamente questo ruolo. Non sono per niente d'accordo. Il ruolo del designer, come ho detto nel mio ultimo video, semplicemente cambierà, sarà una guida consapevole e guiderà il cliente, guiderà il pubblico alla scelta delle migliori cose dal punto di vista comunicativo ed estetico. Questo sarà il designer, ma in realtà è già così. Perché già ora abbiamo degli strumenti che se li andiamo a raccontare ai designer degli anni 60, 70, ma anche 80, sarebbero strabiliati. Questi software che utilizziamo ci permettono di fare tantissime cose che una volta andavano fatte a mano. Quindi semplicemente il mestiere del designer sta mutando, stanno semplicemente cambiando un po' più velocemente del solito gli strumenti che utilizziamo. Ma noi di Grafigata ci siamo. Noi di Grafigata, con la nostra formazione, saremo sempre sul pezzo. Stiamo già iniziando a pianificare gli aggiornamenti dei nostri corsi Illustrator Startup, Photoshop Startup e InDesign Academy per stare al basso con questi nuovi strumenti. Tutti gli aggiornamenti a questi corsi saranno gratuiti per chi acquista. E' proprio questo il motivo per cui in questo momento di grandi dubbi, in questo momento in cui sembrano ad arrivare mille notizie assurde che possono far temere l'armageddon dei graphic designer, noi abbiamo deciso di fare una mega offerta sui nostri tre corsi di formazione online dedicati ai tre software Adobe. Appunto, Illustrator Startup e il corso avanzato sulle basi di Adobe Illustrator, Photoshop Startup che è il corso dedicato ovviamente a Photoshop ed InDesign Academy e il corso dedicato ad Adobe InDesign. Sono tre corsi completi, avanzati e che verranno aggiornati nel tempo a ogni nuova notizia, a ogni nuova funzionalità, a ogni nuovo strumento. C'è riempimento generativo in Photoshop. Certo, ora c'è questo generative recolor e magari ci sarà un generative logo design, un generative brainstorming, non lo so. Arriveranno tante cose che ti permetteranno di fare tante cose all'interno di questi software, ma non significa che tutti gli altri strumenti diventeranno obsoleti. Avrai degli strumenti in più da conoscere e staranno proprio quegli strumenti, quelli vecchi, quelli che ci sono sempre stati o quelli che ci sono comunque da un po' di anni che faranno la differenza tra un graphic designer amatoriale, improvvisato e che fa le cose un po' alla cavolo, fa generare tutta l'intelligenza artificiale e un designer specializzato con le competenze che sa quello che sta facendo e per sapere quello che stai facendo bisogna studiare, bisogna conoscere a me da dito i software che si stanno utilizzando. Quindi abbiamo fatto questa offerta, più del 30% di sconto per tutto il mese di giugno ti acquisti i nostri tre corsi di grafica per i software Adobe. L'offerta di questi tre software tutti e tre insieme l'abbiamo chiamato Adobe Essential Kit. Ma se sei tra quelli, tra i tantissimi, tra i centinaia di studenti che in questi anni hanno acquistato almeno uno di questi tre corsi, comunque scrivici a info-grafigata.com o contatta uno dei tuoi consulenti per sapere se magari riusciamo a farti un'offerta dedicata per acquistare i corsi che ancora non hai acquistato. E con questo ho concluso questo video. Fammi sapere qui sotto se hai già provato il Generative Reconor di Adobe Illustrator e fammi sapere che cosa ne pensi sulle tante cose che ti ho detto sui potenziali sviluppi dell'intelligenza artificiale e del ruolo del graphic designer nel mondo. Ci tengo tantissimo a sapere la tua opinione sull'argomento quindi clicca qui sotto e dita a scrivere e mi raccomando non usare chat GPT per scrivere un commento qui sotto. Molto bene, questo video è concluso e se ti è piaciuto schiaccia quel pulsante di mi piace e se ancora non sei iscritto al mio canale YouTube beh, iscriviti e schiaccia la campanellina per ricevere una notifica a ogni nuovo video. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Noi ci rivediamo